Dal Giappone alla tua cameretta, manga news con mangaka e caverna Infatti stanno sempre di più puntando, lo vedremo ancora di più oggi nel corso della live Tutti questi piattaforme di streaming online sul proporre sempre più anime, creare sempre più anime Quindi c'è, stanno dando un grande afflusso al mercato, qua vediamo qualcosina Ma tu c'è uno share screen così vedo anche io ste c***ate che stai mostrando per capire Ma tu le vedi dalla live? Sì, in ritardo di circa mezz'ora No, le vedi in 10 secondi in ritardo, guarda Va bene, vediamo dalla live Non si può bestemmiare, vero? No, 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 ecco Volpe, c'è qualche anime che aspetti in questo periodo che vuoi vedere? Dicci un po' Aspetto intanto il nuovo Shaman King, per capire Ok Perché io sono un grande fan della serie e il primo anime era una m***a Il primo adattamento animato era una c***ata senza senso Un po' così, un po' fatto, sì sì Però non mi piace troppo il character design che, come si diceva ieri, è un pochino troppo ispirato al nuovo stile di Takei Che è l'autore, mi piaceva di più quello rotondeggiante Però almeno avremo il finale reale, tra virgolette, dell'opera Assolutamente, assolutamente, insieme anche alla nostra final edition di Shaman King da parte di Star Comics Parliamo di Crunchyroll Infatti Sony ha acquisito Crunchyroll Cosa vuol dire questo per noi? Tanta, tanta liquidità da investire in anime E l'antitrust infatti sta indagando, insomma, su questa acquisizione Perché quello che si va a creare è praticamente il rischio di un mezzo monopolio del settore Un'acquisizione comunque molto molto grande Si parla infatti di 1,175 miliardi di dollari Circa un miliardo di euro di acquisizione Però non sapremo perché potrebbe saltare Quindi ad oggi ancora questo affare, diciamo, di acquisizione non è ancora andato in porto Non è conclusa questa cosa Non è concluso Perché appunto l'antitrust sta indagando Guardiamo, un bellissimo logo Crunchyroll Molto inquisitorio, molto indagatorio questo logo così Un saluto a Crunchyroll Un saluto che poi sono degli amici, ovviamente Assolutamente Crunchyroll Italia, assolutamente degli amici Però, insomma, vedremo Io sarei molto felice, onestamente, se Sony portasse l'indotto E portasse Crunchyroll su una strada, insomma, ancora più Come mai saresti contento? È perché noi vediamo più contenuti Alla fine noi ne beneficiamo L'importante è che non c'è un monopolio Vabbè, ma il monopolio la vedo Anch'io la vedo dura Anch'io la vedo dura Però se stanno indagando Anch'io Anch'io la vedo molto impossibile Però speriamo bene Ma anche per diversi motivi che vanno anche nel demografico giapponese Cioè, a parte il discorso economico Perché sai com'è È un tipo di industria molto particolare Quello dell'animazione giapponese Assolutamente, sì Un ragazzo scrive L'ultimo anime prodotto da Crunchyroll Faceva abbastanza schifo Freak Marco Forse perché magari il budget non era adeguato Magari con Sony dietro qualcosa cambierà Chi lo sa questo? No, ma guarda Ci sono anche anime prodotti da Netflix che fanno cagare Cioè, il discorso Giusto Con tutto il budget del mondo Non dipende da quello Poi dipende soprattutto dal gusto personale Non so neanche qual è l'ultimo anime prodotto da Crunchyroll No, l'ultimo uscito non ricordo nemmeno io il nome Però è buono perché può portare concorrenza Alle altre piattaforme di streaming Come Netflix Disney Plus Prime Video Però gli americani bisogna stare attenti a quelli Perché capiscono poco Cosa dici Volpe? Di cosa hai paura? Gli americani non so tanto Non capiscono bene le cose loro Vogliono fare le ganzate Vogliono fare le stronzate Ora vuoi vedere con il capo Bebop Che casino che tira da fuori Netflix Secondo me Ci sarà da mettersi le mani nei capelli Io non dico perché Perché poi ho paura di suonare un po' Politically Incorrect Soprattutto sul canale di Luca Che è un amico E che ci tengo a Tutelare A tutelare Ecco Gli americani devono stare molto attenti Molto attenti a quello che fanno Quando prendono in mano Prodotti giapponesi Perché tendono ad avere questo Un po' di appropriazione culturale Tendono a fare È esagerata anche talvolta Quindi bisogna un attimino stare così Ecco E invece Stai seguendo la stagione Di Attack on Titan corrente? Lo stai guardando? Ho letto in manga L'anime ho guardato un pochino Ma poi ho detto Vabbè l'ho già letto tutto Il bisogno c'è di guardarlo Devi sapere che adesso L'anime si fermerà A brevissimo E poi continuerà Quest'inverno Con la parte 2 Qua c'è un piccolo teaser Lasciato Come tutti avevamo pronosticato Sì Almeno non sarà diciamo Stagione 4 Stagione 5 Ma 4 4.2 Possiamo dire 4 parte 2 È la final season Quindi Perfetto Perfetto E andrà in onda da dicembre Da dicembre di quest'anno Quindi tecnicamente Insomma Poi finirà Quattro mesi dopo Circa Ma la stagione corrente È già chiusa? Allora Quasi Dovrebbero essere 16 episodi E 16 episodi In teoria Volpe Spostiamoci adesso Un attimo Nel reparto più Videoludico Tu l'hai giocato Ghost of Tsushima Hai avuto il piacere di No Non l'ho giocato Però l'ho visto tutto Giocato Devi sapere Che il regista della saga Di John Wick Quindi tale Chad Stahelski Ha annunciato Che sarà Alla regia Del film Di Ghost of Tsushima Un grande Un grande Ma qual è il film di Ghost of Tsushima? Il film di Ghost of Tsushima Capiamo però In quanto arriverà questo film Non possiamo sapere tutto Non possiamo sapere tutto Ah ok Non si può sapere Sappiamo che PlayStation Production È al lavoro con HBO Anche per altre cose E quindi probabilmente Potremmo vederlo Fra qualche anno Ma poi scusa Non era Manga News questo? Che cazzo ne frega Di Ghost of Tsushima? Manga News È un manga Ghost of Tsushima adesso? No ma ci inseriamo anche notizie Riguardanti Qualcosa di videogiochi Di Giappone in generale Chiamalo Manga È in videogames Japan News Chiamalo No no Ok andiamo avanti Comunque Volpe Ti volevo dire Che lo vedremo Fra qualche anno Fra qualche anno Perché Tu ti ricordi Quando Quando hanno annunciato Come? Bellissimo No È un bel gioco Ti ricordi Quando hanno annunciato La serie tv Sul libro Del Signor degli Anelli Una serie tv Sul libro Del Signor degli Anelli Sì Sul libro di Tolkien Nel 2017 L'hanno annunciata E ancora Dobbiamo vedere Ok Ma la stanno facendo veramente? Sì sì Ci stanno lavorando Ci stanno lavorando Sai quante volte ho letto Live action di Dragon Ball Poi guardi su YouTube Ed è un sell in CGI No no Sono cose vere Queste volte Sono notizie vere Non sono Notizie in CGI Va bene Va bene Va bene Boh speriamo che sia figo Almeno Almeno Però Per i fans Spero che sia figo Perché se mi dicono È come se a me dicessero Un film Su Rocky Joe No Si puoi fare un film Della Madonna Oppure fare una cringiata Di quelle grosse Gravi E a proposito di Fighe E anime Abbiamo una news Che deriva Direttamente Da Emanuella Pacotto Che infatti Sulla sua pagina Facebook Ha condiviso Una notizia Che tutti aspettavamo Vero Volpe Ah ok Sì sì Che riprende Riprende L'anime Di One Piece E Naruto Infatti Con il doppiaggio in italiano Era moltissimo Ok Naruto Shippuden Era fermo Mai concluso Da noi Non si sa per quale motivo Vabbè Finalmente Ci hanno rimesso le mani E quindi sono di nuovo A doppiare Sia Naruto Che One Piece Dopo anni 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 Molto figo Molto figo Molto bello Non so dove sono fermi Naruto è a metà guerra Ok E One Piece All'isola di uomini pesce Ma come è l'isola di uomini pesce L'isola di uomini pesce All'e medio ero Quando guardavo L'isola di uomini pesce No è possibile No inizio Punk Hazard Dicono Prima i Dressrosa Inizio Punk Hazard Ok Prima i Dressrosa Sì sì Ok Bene Bene Quindi sarà una parte Un po' merdosetta Perché Punk Hazard Secondo me è un pochino Una cagata Parole forti queste Queste sono parole forti Penso che sia abbastanza Di opinione comune Che Punk Hazard Non sia proprio La saga più interessante Del mondo È figo comunque Probabilmente faranno Punk Hazard E Dressrosa A questo punto Punk Hazard è abbastanza Colticina Esatto Speriamo insomma Le facciano entrambe Quindi magari fanno Punk Hazard E Dressrosa Invece per quanto riguarda Naruto Boh Firmiamo Metà Guerra Non penso che finiscano entrambe Questo lo escluderei No Neanch'io Neanch'io Purtroppo Ti volevo dire Che è uscito il trailer Del nuovo film Di Mirror Academy Che arriverà Un altro film Che arriverà ad agosto Ora ci andiamo a vedere Il trailer parlando Perché ovviamente Lo vediamo muto Come sempre Ma ora vediamo Già un bambino Un bambinello Lì il ponte Bellissimo Sembrava Un puttino Un puttino Un puttino Una crisi mondiale Sta colpendo Il mondo E ci sono i nostri eroi Pronti a salvarlo Non vediamo l'ora Tutti di Vedere questo Questo film Credibile Trama tra l'altro Incredibile questa Devo dire che Porta sicuramente Qualcosa di nuovo Sul panorama Anime in generale Cioè Gli eroi che devono salvare il mondo È una cosa veramente ganza Come cosa Non l'ho mai vista Non l'ho mai vista Può rivoluzionare il mercato Dici tu Assolutamente Questo è sicuramente Un film rivoluzionario Che tra l'altro Incasserà un sacco di soldi Piedi tutti i soldi Incassati allo studio Ghibli Di tutta la storia omana Potrebbe uscire l'anno prossimo Anche nelle sale italiane Perché abbiamo un buono storico Ma chi cazzo lo vuole Ma chi cazzo lo vuole Quando ci sono Queste serie Che marciano fortemente Sull'opinione pubblica E su quanto appunto È grande il loro bacino d'utenza Per forza Sparano fuori Tutta la m***a Dietro l'altra Perché bisogna far vedere Alla fanbase Tutti i loro personaggi Preferiti Le ragazzine simpatiche Belline Parlando sempre di manga Tu hai letto Jujutsu Kaisen Ti sta piacendo? Sì Sto leggendo Jujutsu Kaisen La notizia è del prequel Adattato in un lungometraggio Ci sarà un film Per il volume 0 Di Jujutsu Kaisen Che è previsto Per la stagione invernale Quindi Fra dicembre e febbraio Di quest'inverno Il volume 0 Precede appunto Quello che viene narrato Dal volume 1 E sta pubblicato In Giappone nel 2017 Su Shonen Jump Giga Ora qua ci andiamo a vedere Un piccolo Un piccolo trailer E sarà a farlo studio mappa Eccolo qua Eccolo che parte Volpe Adesso parte Piano piano To animation Studio mappa Ricordalo Quindi un attimo di pazienza Se si rimane uno scam Sto trailer Te lo dico Un attimo di pazienza Via Ok insomma praticamente Hanno rubato Le tavole del manga L'hanno buttato E visto L'ultra un paio E basta Questo è il trailer Esatto Ho detto che era Mezzo scam Però studio mappa E' comunque molto indafforato Con Attack on Titan Al momento Quindi possiamo Possiamo capirli Volpe che ne pensi Di questo trailer Che abbiamo appena Ma io penso che sia A parte una delle cose Più inutili Che abbiamo mai sentito C'è il volume zero Basta te lo leggi Che bisogno c'è Di fare il film È un teaser È un teaser Volpe Quindi comunque Poi sarà Di gran lunga Migliore il film Ma per forza Ci mancherebbe altro Comunque boh L'anime di Jujutsu Kaisen È fatto molto bene Direi anzi Io preferisco l'anime Di Jujutsu Al manga Per dire Ma quello che mi turba È l'utilità Di una cazzata del genere Cioè veramente Tutti quanti Devono salire Su sto cazzo Di trenino Del latte Dei film Tutte queste stranate Inutili Adesso non fanno più Le stagioni Per fare i film Ora il film Su un cazzo di volume Ma che cazzo è sta roba Mediamente da un volume Vengono tirati fuori Circa tre episodi In media anche quattro Quindi comunque Viene fuori una cosa Tranquillamente Da un'ora e venti Un'ora e mezzo Allungandola un pelino Certo ma chi cazzo lo voleva Ti leggi il volume Sì 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 Sono d'accordo Ti prendo le parole Di Hideaki Sorachi In cui diceva semplicemente Che i film Sono molto belli Perché aiutano a far vendere L'opera Ok così Così come l'anime L'anime è creato Sempre per far vendere Di più il manga Quindi allo stesso modo Lo fanno i film Ma le royalties Che i manga Che hanno dei film Sono molto vicine Allo zero Scriveva lui Diceva che era molto felice Per l'uscita Al cinema Del film di Gintama Ma che al contempo Non ci avrebbe visto una lira Questo era il suo commento Sull'uscita del film Il discorso è questo Ho capito Il discorso è Il formato Il film Se non te lo vuoi legge Va bene Facci tre episodi Allora A sto punto Se proprio bisogna adattare A questo volume zero Facci tre episodi Perché il volume zero Ha senso di esistere È importante Facci gli episodi Dell'anime Vai avanti Bisogna fare per forza I film adesso E purtroppo ora Sì Fanno i film Sta funzionando bene Questa cosa dei film E quindi stanno continuando A farli Perché purtroppo Magari per i fan È un per fortuna Molti sono felici Di vedere un film Dell'opera che tanto amano Quindi Ma secondo me Se devi fare Il fatto è che Il formato del film Secondo me Non dovrebbe essere dedicato All'adattamento Di qualcosa che abbiamo già No? Se tu devi adattarmi il manga Mi fai l'anime Va benissimo Non c'è nessun problema Bellissimo È giusto che sia così Ma il film fammelo Magari per una produzione originale Qualcosa di autoriale No? Qualcosa che non c'è nel manga Qualcosa in più Dai qualcosa Devi dare qualcosa in più All'opera Con un film secondo me Sono d'accordo con te Però io Cerco anche di mettermi Nei panni Loro E dire Ma Sti quattro episodi Dove li mettiamo? Il cazzo Dove lo mettono? Avanti Aggiungono Fanno un'ova O qualcosa Ecco e quindi Secondo me Anziché fare un'ova Hanno visto il modo migliore Per posso dire Lucrarci maggiormente E il film sicuramente Era un'alternativa valida Fanno il capitalismo ragazzi Devi sapere che Netflix Ha fatto un accordo Con la TOW Per la produzione Di film live action E uno dei primi Che diventerà Un film live action È Il manga di Yoshiro Togashi You degli spettri No 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 Sala di attesa Toguro minore In CGI Gigantesco Col fumo che gli esce Dai pori Della pelle Non vedo l'ora Però insomma c'è Netflix e TOW Secondo me può venire fuori Veramente qualcosa di bello Allora Netflix ha tutti i soldi del mondo Ok Sì esatto Tutto il mondo Tutti i soldi del mondo Ce li ha Netflix Tutto il mondo Ok Cioè la gente non mangia Perché i suoi soldi Ce li ha Netflix Esatto esatto Quindi può fare il cazzo che vuole Può anche creare Una forma di vita artificiale Con le sembianze di Toguro E insegnare a recitare Per fare questo live action In teoria Quello non dovrebbe essere il problema Ma non è questo che accade Faranno una cacata Come sempre Faranno il solito live action del cazzo Andranno anche chip dove possono Perché sicuramente a Togashi Non gliene frega un cazzo Di stare dietro a questa cosa Quindi io sono molto contrario Secondo me Opere che sono fatte Per stare su carta O animate Sono così appunto perché vogliono esulare dalla realtà E vi diamo subito l'annuncio Di due anime Di cui hanno annunciato la prossima stagione Uno è Quintessential Quintuplets Oh belle Vediamo qua Un brevissimo teaser Delle signorine Molto interessanti Fai vedere questo teaser Mamma mia che pupone Piene di latte Cinque signorine molto Piene di latte Molto interessanti Che sembrano avvicinarsi ad un matrimonio Possiamo capire questo teaser Chi lo sa Tutte vestite da sposa L'altro anime invece è Dottor Stone Dottor Stone E adesso andiamo direttamente Gli annunci di Panini Adesso quello che hanno Forza Che hanno annunciato Abbiamo Bluelock Tu l'hai visto qualche tavola di Bluelock È pazzesco Sì 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 È molto bello È pazzesco Da vedere Molto bello da vedere E anche una storia figa Anche una storia molto figa Io ho la storia Non vedo l'ora che arrivi Assolutamente Questa storia dove vogliono creare Questo super uomo nicciano Del calcio giapponese Attraverso una selezione naturale Per un attaccante del calcio giapponese Che riporti il calcio giapponese Da essere il calcio dei co***oni Al calcio di Dei splendori Dei campioni Un altro è City Hunter City Hunter è un classicone Ora non dico che va a letto per forza Però con questa edizione nuova Si stanno praticamente obbligando Nel senso che City Hunter A luglio esce ragazzi A luglio Quindi c'è tempo Avete anche tempo Per preparare il portafoglio La trama è molto verticale Cioè è molto episodica Ok Quindi non vi aspettate Quelle storyline Che vengono portate avanti In continuazione No Un'altra robina Che invece questa è nuova Che arriverà sempre a luglio È Alice in Wonderland Io non so Porta una sega sinceramente Toilet Stories Sono molto molto curioso Questo qua Che c***o è Che c***o è Ma fate piuttosto Fate qualche altra ristampa Pubblicate qualche Qualche scioggio simpatico Mayra Academy Quindi uno dei tre manga Preferiti Ha fatto la cosa Più bella in assoluto Ha promosso Un servizio Antipirateria online Ma vai a cagare Guarda Porello Guarda Guarda tutti sul telefono Che C'è sta rompendo il So chi legge le scan insomma Chi stanno picchiando Chi legge le scan Quindi promuovono la violenza Su chi legge le scan Volpe Grazie mille per essere passato Per aver fatto questo manga Grazie a te Mi diverto sempre Tanto con i miei fratelli Grazie a tutti i miei fratelli